5 anni mia madre mi ha portato qua a 5 anni perché non poteva tenermi a casa non ho nessun parente ho dei parenti in vita non so dove siano non li conosco a 5 anni si è portato qui a 5 anni raggiù dai bambini tutto il mazzammi era raggiù prima si è passato lì poi andai raggiù sono andato sotto credo che c'è l'infermeria ma sono stato perché gli ho dato un pugno al capovale di sezione e lui mi ha pulito in cielo con quattro cinghie soffro elettroshock e mi sono preso quello è ragazzo la vita me la sono fatta io rifiutavo i farmaci e mi tenevano fermo l'infermiera e il medico si arrivava in quella stanza e c'era una specie di bacinella con tutte quelle siringhe un'esperienza terribile tragica e vedo questo affarino e poi le va assaggiato con le siringhe tantissime perché eravamo tantissime persone e a tutti facevano l'elettroshock e il macchinario ce lo mettevano accanto era un macchinario grosso che veniva trasportato facendo il giro di tutti i letti cioè qui non siamo negli anni 40 qui siamo a pisa nel 1996 97 e non c'è qui non c'è città in modificata cos'è quando io sento urlare quello laggiù poi sento urlare quell'accanto poi so che tocca a me e me lo fanno sono tutti insieme sono sveglia questa è ora cioè non è trattamento terapeutico io errante nocchiero di un relitto dalle belle abrandelli io errante nocchiero di un relitto dalle belle abrandelli non era un sistema terapeutico era era un sistema punitivo non era un sistema terapeutico era era un sistema punitivo cioè attraverso l'elettroshock non si tendeva tanto a curare cioè l'elettroshock si poteva agire come anche come un antidepressivo ma nello stesso tempo agiva da elementi di munizione perché no perché se tu provava a scappare se uno provava a scappare la funzione era quella lì per contare tutti i reparti c'era stato di migliaia di migliaia di molotti qui dentro ricoverati si pensava che scioccare colpire con violenza il corpo servisse per curare una tira no mattina, la schizopenia era rimacurata con la malattia anche qui a Racconici facevano la malattia esce fuori insomma un'esperienza terrificante in quanto insomma ha vissuto come punitivo, poecitivo, insomma gente legata al letto persone che hanno visto fare elettroshock alla persona accanto mentre erano legate insomma molto molto forte allora proprio a queste persone dedicato questo lavoro a quelli che hanno battito le discriminazioni più atroce a quelli che hanno subito le stigmatizzazioni più efferate a quelli che hanno sostenuto con dignità il peso del direggio, dell'oltraggio, dell'egonia, dell'odio e del disprezzo ma soprattutto a quelli che non ce l'hanno fatta e a quelli che non ce la faranno non ce la faranno non ce la faranno non ce la faranno